Ciao amici di Horror Italia 24, siamo in diretta da Luca Comics & Games insieme a Lorenzo che ha deciso di sottoporsi al nostro Horror Quiz Live per provare a vincere un premio vediamo se riuscirà a rispondere bene a qualcuna delle nostre domande domande con opzioni io direi di cominciare la domanda che abbiamo selezionato per te è la seguente i piccoli brividi cosa sono? hai quattro opzioni una serie di fumetti una serie di libri una serie di cartoni animati oppure una graphic novel una serie di libri è la tua risposta definitiva? si accendiamo? complimenti Lorenzo che hai superato è una delle nostre preferite quindi inutile dire che merito un premio diamo secco tiro fuori dal mio zaino sono fortunato allora complimenti a Lorenzo che ha superato il nostro Horror Quiz e che si porta a casa una maglietta ufficiale di Horror Italia 24 un'edizione limitatissima ne sono stampate veramente poche speriamo di ricevere presto una foto con la tua maglietta arancione quindi per Halloween spero ti sia divertito a noi e grazie per aver partecipato ciao Lorenzo ciao ciao